Ciao a tutti, Gianveloci Gruppi Bay, oggi con noi abbiamo una pavone e rame e ottone in bellissime condizioni. Ve la facciamo vedere. L'unica piccola cosa ha una crepa qui nel plexiglass dell'indicatore del vapore. Ora vi faccio vedere proprio come si fa a fare il caffè. Ricordo sempre di usare una macina fine. Ora scaldiamo il gruppo, facciamo passare l'acqua attraverso il gruppo. Adesso abbiamo il gruppo bello caldo e pronto. Quindi mettiamo il caffè macinato già pronto, agganciamo il braccetto e procediamo. Si solleva, l'acqua viene caricata nel gruppo, arriva qui e ora si preme. Ecco fatto. Come potete vedere abbiamo un caffè espresso con tutta la crema. Grazie. Grazie. Grazie.